Benvenuti a questa lezione di programmazione d'oggetti in cui parleremo di tipi generici. I tipi generici sono una giunta di Java che permette di andare a gestire in maniera agile classi che possono andare a contenere dati di tipi molto diversi. Quello che succede molto spesso è che io abbia la necessità di svolgere lo stesso tipo di operazioni o di memorizzare in maniera analoga, seguendo lo stesso tipo di struttura, dati di tipo diverso. La soluzione tipica che viene utilizzata è quella di adottare dei riferimenti di tipo obgetti, riferimenti universali, che quindi possono puntare a qualunque tipo. È chiaro che l'utilizzo di object porta ad alcuni inconvenienti. In particolare è necessario fare dei cast espliciti quando devo fare un downcast. non posso svolgere dei controlli a runtime, per cui se utilizzo un riferimento di tipo obgetti non posso verificare che quel oggetto abbia alcuni metodi piuttosto che sia compatibile con alcune caratteristiche. E i downcast, che devono essere espliciti, possono essere verificati esclusivamente a runtime, quindi in fase di compilazione io non sono certo della correttezza dei cast. La soluzione è quella di utilizzare dei tipi generici. Vediamo il problema in termini di un esempio. Diciamo che vogliamo utilizzare una classe che si chiama pair, che contiene per l'appunto una coppia, un paio di oggetti. Volendo permettere di memorizzare oggetti e coppie di qualunque tipo, la soluzione è quella di andare a utilizzare degli object. Quindi avrò un costruttore che riceve due object e avrò due metodi, first e second, che mi permettono di andare a restituire il primo e il secondo elemento. Attenzione che utilizzando object qui o qui non posso andare a memorizzare dei tipi primitivi. Di questo è un vincolo. Quindi dovrò andare a utilizzare implicitamente o esplicitamente degli oggetti di tipo wrapper. Quindi posso andare a costruire una classe pair a cui passo due stringhe oppure a cui passo due interi. Attenzione qui entra automaticamente in funzione il meccanismo di autoboxing, quindi uno e due che sono interi automaticamente vengono convertiti in oggetti di tipo integer. A questo punto per andare a utilizzare gli elementi di queste coppie devo utilizzare dei cast. Quindi string se vado a prendere l'elemento della coppia di stringhe, integer se vado a prendere un elemento della coppia di integer. Ovviamente io posso anche commettere degli errori, quindi vado a prendere il secondo elemento della coppia di interi e faccio un cast a string. Questo non può essere verificato a runtime perché second restituisce un object e quindi io ragionevolmente posso fare un cast da object a string. Il punto è che in fase di esecuzione quello che riscontriamo è un class cast exception. Per cui innanzitutto posso fare delle coppie miste mettendo ad esempio integer e stringhe oppure stringhe integer e non ho nessun controllo sul fatto che i due tipi siano omogenei. Quello che posso fare in fase di esecuzione è andare a utilizzare un instance of per verificare se un certo downcast è corretto o meno. La risposta a questo tipo di problemi è quello di utilizzare delle classi generiche, ovvero delle classi come questa dove aggiungo alla classe quello che è un parametro di tipo, ovvero dichiaro che per non è una classe specifica ma è una classe generica, ovvero è una classe che può avere tante varianti in funzione di quello che è il suo parametro di tipo. In questo caso parliamo di parametri di tipo perché al posto di t non potrò mettere un valore ma dovrò mettere un tipo vero e proprio, ovvero il nome di una classe. A questo punto se t è il parametro della mia classe generica per andrò a dichiarare che a e b sono di tipo t, che i parametri che passo al costruttore sono di tipo t, che i metodi first e second restituiscono elementi di tipo t, che abbiamo set first e set second che anche essi ricevono dei parametri tipo t. A questo punto io posso avere una classe che è una coppia di string, una coppia di integer, una coppia di qualunque cosa. A t posso sostituire una classe generica. Quindi posso dichiarare un pair di string, che è uguale a new pair 1 e 2, due string, pair di integer, new pair 1,2. Posso anche tentare di fare un pair di string a cui passo new pair 1, un valore intero, e 2 stringa. Questo risulta in un errore di compilazione perché ovviamente pair prevede che i due tipi che vengono passati come parametri del costruttore siano identici, t, a e t, b, abbiamo scritto qui, t, a e t, b, quindi a e b devono sostanzialmente essere dello stesso tipo. Risultato, il compilatore mi dice non è possibile andare a creare una coppia dove ho 1 e la stringa 2 perché non sono dello stesso tipo, quindi non esiste un costruttore adatto. Un altro grosso vantaggio è che, visto che second restituisce direttamente il tipo corretto, quindi string nel caso di una coppia di string, non è necessario un downcast. Perché? Perché fa tutto il compilatore. Posso scrivere int b uguale ip to un photo first e qui vado a sfruttare automaticamente l'auto-unboxing, visto che first chiamato sull'oggetto ip restituisce un integer e quindi può essere automaticamente convertito. Inoltre, se cerchiamo di andare a fare una conversione tra il risultato di second chiamato sulla coppia di interi in una stringa, immediatamente il compilatore è in grado di segnalarci un errore. Quindi non dobbiamo aspettare l'esecuzione del codice, ma abbiamo direttamente l'errore segnalato in fase di compilazione. Qual è la sintassi che possiamo utilizzare per andare a dichiarare i tipi generici? Beh, sostanzialmente possiamo utilizzare la parola chiave class oppure interface perché possiamo avere sia classi che interfacce generiche, il nome della classe o dell'interfaccia e poi i parametri di tipo racchiusi tra minore e maggiore. Ovviamente, nell'esempio abbiamo usato un unico parametro di tipo, ma possiamo avere anche molti parametri di tipo separati da virgola. I parametri rappresentano classi o interfacce e convenzionalmente sono scritti con la lettera maiuscola. Normalmente abbiamo T, E, K, V, R, questi sono i tipici nomi che utilizzo con un'unica lettera per andare a rappresentare i parametri di tipo. A questo punto abbiamo i tipi generici, possono essere molto utili e in effetti a partire dal Java 5, ovvero la versione di Java in cui sono stati introdotti i tipi generici, tutte le interfacce e le classi che abbiamo visto e che erano presenti in Java, utilizzavano degli object, sono state convertite in modo da poter utilizzare dei tipi generici. L'uso delle interfacce con i tipi generici è tendenzialmente più sicuro perché il compilatore è in grado di fare una serie di controlli a runtime, scusate, a compile time evitando problemi a runtime. Sono molto più compatti perché non devo andare a mettere upcast, downcast e quindi risparmio tutta quella parte. Sono tendenzialmente più facili da comprendere perché il codice aggiuntivo rende la comprensione più complicata e in termini di prestazioni non c'è nessuna variazione, quindi sostanzialmente alla fin fine il codice che viene eseguito è lo stesso che utilizzava gli object, ma c'è tutta un'infrastruttura che viene sfruttata in fase di compilazione che permette di andare ad avere del codice più sicuro e più compatto. Ad esempio, l'interfaccia comparable che abbiamo visto parlando delle interfacce e andando a vedere come possiamo andare ad ordinare gli oggetti, nella realtà è dichiarata come un'interfaccia comparable con parametro t. A questo punto la grossa differenza è che invece di avere qui un object compare to object abbiamo un compare to t. Per cui se io vado a dire che l'interfaccia, che la classe student implementa comparable senza usare il tipo generico, devo andare a mettere un object, devo mettere un cast. Se invece vado a dire che implementa comparable di student, automaticamente il metodo compare to può accettare uno student invece di un object, quindi mi risparmio il cast e posso semplicemente andare a fare il confronto tra i due identificatori degli studenti. Quindi un grosso risparmio di codice e soprattutto molto più facile. non devo andare a scrivere quel cast, non devo andare a mettere un parametro student, scusate, object invece di student che è praticamente abbastanza controintuitivo e quindi il mio codice è più compatto, più semplice e soprattutto più sicuro perché qui ho uno student e quindi non devo andare a fare nessun controllo aggiuntivo. Abbiamo visto negli esempi precedenti l'uso di un operatore che si chiama diamond operator che permette una scrittura compatta. Questo operatore è stato introdotto in Java 7 ma noi l'abbiamo utilizzato senza pensarci troppo. In realtà quando sono stati introdotti i tipi generici in Java era necessario ripetere il parametro di tipo sia nella dichiarazione del tipo, quindi ad esempio list di string, sia nella dichiarazione quando vado a creare l'oggetto con la new. In Java 7 è stato introdotto il diamond operator, ovvero quando faccio la new non ho la necessità di andare a specificare il parametro di tipo perché il compilatore è in grado di inferire questo tipo dal tipo a cui vado a fare l'assegnazione. Quindi questo ci risparmia un po' di scrittura e ci semplifica il codice che quindi di nuovo è più semplice da scrivere. Attenzione, questa è una caratteristica introdotta in Java 7 quindi da Java 5 e Java 6, il codice scritto all'epoca di Java 5 e Java 6 non include il diamond operator ma include la doppia dichiarazione. Oltre alle classi generiche io posso andare a dichiarare dei metodi che sono generici, quindi posso scrivere una classe tranquilla, normale e al suo interno andare a dichiarare dei metodi che sono generici. Come faccio? La sintassia è quella che vediamo qua, quindi ho i vari modificatori esattamente come prima, quindi pubblico, privato, statico, final, eccetera. La dichiarazione del o dei parametri di tipo, tra minore e maggiore, il tipo di ritorno, il nome della funzione e i parametri. Quindi, semplicemente, prima del tipo di ritorno vado a mettere il parametro di tipo racchiuso tra minore e maggiore. Ad esempio, se io voglio andare a scrivere un metodo che sia in grado di verificare se un certo elemento compare all'interno di un array, nel caso di assenza di metodi generici dovrei andare a utilizzare dei array di tipo obiette, di elementi di tipo obiette. Con i tipi generici io posso andare a scrivere un array t e un elemento t. Quindi, automaticamente, il compilatore è in grado di andare a verificare che, dato un array di un certo tipo, gli elementi di cui vado a verificare la presenza, siano sostanzialmente compatibili, siano dello stesso tipo dell'array. Quindi, dichiaro questo parametro di tipo t e automaticamente posso utilizzare t in vari punti. Qui nella dichiarazione, ma poi anche nel corpo del metodo, andando a dire che, ad esempio, for t current uguale in array, faccio la verifica se current equals l'elemento che sto andando a verificare. e nel caso restituisco true. Quindi, io posso avere una stringa di parole e andare a dire contains word fox e questo automaticamente mi permette di fare un controllo in fase di compilazione che io vada, dato un array, a cercare degli elementi del tipo corretto. In generale, i tipi che abbiamo utilizzato finora sono detti unbounded, ovvero senza vincoli. Perché? Perché non ci sono vincoli. Io posso sostituire un parametro t di un tipo generico con una qualunque classe. L'unica assunzione che può fare il compilatore, in questi casi, è che sostanzialmente t debba estendere object, come qualunque classe. Di conseguenza, quando deve fare le verifiche di correttezza di tipi, il compilatore assume che t sia uguale a object e quindi, per qualunque variabile di tipo t, ha a disposizione solo ed esclusivamente i tipi di object. Per cui, ad esempio, se noi dovessimo scrivere un metodo di ordinamento generico, come quello che vediamo qua, in pratica diremmo che il metodo sort accetta un array di tipo t, dove t è il parametro di tipo di questo metodo generico. Abbiamo due cicli che confrontano gli elementi e poi abbiamo un metodo compareTo chiamato sull'elemento j-1 e a cui passo come parametro l'elemento j. Il problema è che, se scrivo questo, il compilatore mi segnala che il metodo compareTo non è definito per il tipo t. Perché? Perché in questo caso il compilatore può assumere che t sia uguale ad object, non ha nessuna informazione aggiuntiva. Invece, in alcuni casi, è utile dire che t non può essere un oggetto qualunque, ma deve essere per forza derivato da una certa classe. Per cui sono stati introdotti quelli che si chiamano i bounded type, ovvero quando io vado a definire un parametro t vado a dire che questo parametro t estende b, ovvero significa che io potrò andare a sostituire t nella realizzazione del tipo generico utilizzando b o una qualunque delle sue sottoclassi. Questo si chiama un upper bound, ovvero la classe che rimpiazza t può arrivare fino a un certo livello, ovvero il tipo b o una delle sue classi derivate. Per cui, nel caso del nostro metodo generico di ordinamento, quello che posso fare è andare a dire che t estende comparable. A questo punto, il compilatore sa che t è almeno un qualcosa che implementa comparable e quindi avrà a disposizione il metodo compareTo, perché il metodo compareTo è definito all'interno di comparable. Attenzione! In realtà abbiamo visto che le interfacce che abbiamo utilizzato finora, a partire da Java 5, sono state ridefinite come interfacce generiche, per cui quando parliamo di comparable in realtà dovremmo, per migliorare la leggibilità del codice, dire che in realtà è comparable dt. Ecco, questo è un metodo bounded per andare a fare l'ordinamento. ovviamente possiamo scrivere la variante che ha, invece dell'ordinamento naturale utilizzando il compareTo, l'utilizzo di un comparator. Per cui possiamo andare a dire che abbiamo un metodo sort che riceve un array di elementi di tipo t e un comparatore di tipo c. Allora, a questo punto qual è il vincolo? Il vincolo è che, mentre t non ha nessun limite, può essere di qualunque classe, c deve estendere un comparatore di t. Quindi, in questo modo, noi stiamo andando a dare un limite superiore a c, quindi c deve essere qualunque classe, purché estenda, o implementi, visto che compareTo è un'interfaccia, compareTo di t. A questo punto il compilatore è in grado di andare a verificare che dentro cmp esista un metodo compare e che i parametri di compare siano sostanzialmente compatibili con gli elementi di tipo t, che sono gli elementi dell'array v che noi stiamo andando a ordinare. Ovviamente noi possiamo utilizzare anche quest'altra notazione, quindi andare a dire che abbiamo semplicemente il tipo t come parametro del nostro metodo e andare a dire che il primo parametro è t, utilizzato come tipo degli elementi dell'array, e il secondo è un comparatore di t. Quindi le due varianti in cui abbiamo due parametri, t e c, oppure un unico parametro t, sono sostanzialmente equivalenti. A questo punto è utile fare qualche considerazione su come i tipi generici possono interagire con l'ereditarietà. Allora, mentre noi sappiamo che in generale, ad esempio, integer è una sottoclasse di object, ecco, potremmo aspettarci che coppia di integer sia una sottoclasse di coppia di oggetti. Ecco, questo in realtà in Java non è vero. Perché? Ve lo faccio vedere con un esempio molto specifico. Immaginiamo di andare a definire una coppia di interi pi inizializzata con 0 e 1. A questo punto io posso, se fosse vero che la coppia di integer è una sottoclasse di coppia di oggetti, potrei fare un upcast dicendo che pn coppia di oggetti è uguale a pi. A questo punto potrei andare a scrivere il primo elemento della coppia di pn con questa stringa 0.5. Lo posso passare lì perché qui si aspetta un object, se passo una stringa mi viene fatto tranquillamente un upcast. A questo punto potrei andare a prendere pi.first e quindi il compilatore mi si aspetta che il metodo first dpi, essendo come parametrizzato con integer, mi restituisca un integer, in realtà l'ho appena messo a una stringa e quindi qui avrei un errore. Il compilatore mi dice che questo è corretto ma a runtime avrei un errore di tipo, quindi avrei un cast exception qui dove in realtà mi aspetterei tramite un upcast un'operazione sicura e garantita. Tutto questo avviene perché in questo frammento di codice abbiamo considerato come se fosse legale questo upcast da pair di integer a pair di object. In realtà questa operazione in java è vietata, ci viene dato un sostanziale errore di tipi incompatibili. In generale quando abbiamo contenitori ed elementi possiamo andare a parlare di due tipologie di relazione tra ereditarietà dei contenitori ed ereditarietà degli elementi. Le due tipologie si chiamano o varianza oppure covarianza. Abbiamo una covarianza se dato che A estende B, allora il contenitore di A estende il contenitore di B. La covarianza è un qualcosa che noi abbiamo visto e ce l'abbiamo ad esempio sugli array. Abbiamo invece un'invarianza se dato che A estende B non possiamo dire nulla sul fatto del contenitore di A e del contenitore di B. Ed è questo che abbiamo in java. Questo sostanzialmente mette qualche vincolo in più ma ci dà la garanzia che non possono essere fatti delle operazioni illegali che portino a degli errori runtime che non ci saremmo aspettati. Per cui i tipi in java sono invarianti. Qui se anche integer estende object, pair di integer non estende pair di object. Per cui se cerchiamo di andare a scrivere pair di integer e poi cerchiamo di fare un upcast da P a PN, quello che otteniamo è un type mismatch. Quindi questo non è possibile. Invece in java sono covarianti gli array. Per cui quando io ho un array di stringhe posso tranquillamente andare a fare un upcast da array di stringhe a array di oggetti. Ovviamente questo è pericoloso perché a questo punto il compilatore potrebbe lasciarmi andare ad assegnare a un elemento del mio array di object un integer. In effetti integer è un object e quindi da un punto di vista del compilatore questo è legale e consentito. Il problema è che a questo punto a runtime avrei un'eccezione. In particolare è un'eccezione di array store exception. Quindi il fatto di consentire agli array di essere covarianti, cosa che permette di andare a scrivere dei metodi in maniera abbastanza semplice, quindi io posso mettere un metodo che accetta un array di object e a questo punto posso passare, utilizzando la covarianza, un array di qualunque tipo. Il punto è che però la covarianza espone gli elementi che sono covarianti a errori di questo tipo, di incompatibilità che però viene scoperta soltanto a runtime, mentre a compile time non mi dà nessun problema. Ovviamente gli array sono stati dichiarati covarianti per avere una certa flessibilità. La flessibilità è molto utile e invece quando parliamo di tipi generici questi sono invarianti e quindi abbiamo dei vincoli. Vediamo quali sono questi vincoli e come possiamo andare a sorpassarli utilizzando delle notazioni appropriate. Quando noi andiamo a cercare di scrivere un metodo come quello che vediamo qua, che prende un oggetto coppia di object e cerca di stamparlo facendo print di p.first e p.second, se proviamo a invocare questo metodo che pare essere generico passandogli una coppia di integer, ecco il compilatore ci dice che il metodo non è applicabile per questo argomento. Perché? Perché qui abbiamo un perdi object, cerchiamo di passare un perdi integer, il compilatore, visto che i tipi generici sono invarianti, ci dice perdi integer non è una sottoclasse di perdi object e quindi non posso fare un upcast. Il risultato? Quella chiamata è illegale. Quello che possiamo fare è andare a mettere un tipo. Qui non andando a mettere object ma andando a mettere un metodo generico dichiarando t come un qualunque tipo e quindi andando ad accettare perdi t. Ovviamente a questo punto qui p.first e p.second saranno di tipo t che il compilatore sostanzialmente assume essere object o una sua sottoclasse però non sa qual è la sottoclasse quindi lì ci dà esclusivamente i metodi disponibili all'interno della classe object. Un'alternativa è quella di andare a utilizzare quelli che si chiamano le wildcard, ovvero il punto interrogativo che in java si legge unknown. Punto interrogativo significa è una classe sconosciuta, non vogliamo sapere nulla della classe in questione. Ovviamente punto interrogativo si legge unknown, mentre invece posso avere le varianti bounded, quindi punto interrogativo extends b, quindi abbiamo un upper bound per il nostro tipo sconosciuto e possiamo anche avere, quando abbiamo a che fare con le wildcard, un lower bound, quindi dire che il nostro unknown super t, quindi è una super classe di d. Per cui il nostro metodo di stampa potrebbe anche essere scritto in questo modo, quindi pair di unknown. unknown. A questo punto il nostro compilatore ci dice che riusciamo tranquillamente a chiamare il metodo printPair passando un pair di qualunque tipo. Qui in effetti stiamo dicendo che è unknown. Ovviamente quando noi utilizziamo la wildcard unknown stiamo dicendo che può essere qualunque classe e quindi compilatore utilizza un approccio molto conservativo. Per cui se ad esempio ho un metodo che si chiama clearFirst che dovrebbe mettere la stringa vuota al posto del primo elemento e passo un pair di unknown, ecco il compilatore ci dice che il metodo non è applicabile perché il nostro unknown è per l'appunto sconosciuto e quindi non sa se la stringa è compatibile con questo unknown della coppia che è stata passata come parametro. Quindi in generale quando abbiamo un unknown normalmente il compilatore assume che quello possa essere equivalente a un object, in più fa un controllo e impedisce qualunque assegnazione a un riferimento di tipo unknown proprio perché è sconosciuto e quindi non ha nessuna idea. Non posso neanche assegnare un object, attenzione, quindi i vincoli sono molto molto stretti. Quindi in generale io posso utilizzare unknown, magari bounded, per andare a fare tutta una serie di operazioni. Ecco, immaginiamo a questo punto di voler andare a scrivere un metodo che è in grado di prendere i due elementi di una coppia e di sommarli. Ovviamente questo funziona soltanto se io ho degli oggetti a cui posso andare a estrarre un valore, ad esempio double. In Java esiste una classe che si chiama number che è la super classe di integer, double e long, a cui posso andare a chiedere di restituire il valore double. Quindi se io ho una coppia di oggetti tipo number posso andare a dire p.a.doubleValue e p.b.doubleValue e sommarli. Ovviamente se io dichiaro il metodo sum in questo modo potrò passare soltanto delle coppie di number e non delle coppie di integer o di double o di qualunque altro tipo. Perché abbiamo detto che i tipi generici in Java sono invarianti. Posso però andare a definire un tipo, un metodo generico dove definisco il parametro t. Diciamo che t ha come upper bound di estendere number e quindi posso andare a definire il metodo somma con questo tipo bounded come pair di t. A questo punto a t posso sostituire qualunque classe che sia una sottoclasse di number oppure number stesso. E quindi questo mi permette di passare una coppia di interi, una coppia di double, una coppia di long, perché sono tutte sottoclassi di number. Un modo alternativo di andare a scrivere queste dichiarazioni è di andare a dire che io ho una coppia di unknown che estende number. Quindi questa scrittura che vediamo qui in fondo è sostanzialmente equivalente a questa sopra e semplicemente un po' più compatta e usa quelli che sono unknown. Le wildcard possono essere utilizzate per risolvere anche altri problemi. Vediamo un altro caso particolare. Se vi ricordate abbiamo scritto il metodo sort pair che accetta un pair di tipo t dove t estende comparable di t. Quindi sort pair che cosa fa? Se il primo elemento della coppia è confrontato con il secondo, è maggiore di zero, allora li scambia. Quindi semplicemente prende i due elementi della coppia e li ordina. Ovviamente t va bene purché estenda comparable di t. Ora, a questo punto andiamo a vedere un caso particolare. Immaginiamo di avere una coppia di master student. Che cos'è un master student? È una classe che estende student che a sua volta estende ovviamente comparable di student, implementa in realtà comparable di student. Di conseguenza io dico benissimo, se il mio compare to definito dentro student ordina in base a studenti, in base alla matricola degli studenti, io posso tranquillamente andare a ordinare dei master student sempre in base alla matricola. Ora, il punto è che se io cerco di chiamare il metodo sort pair su una coppia di master student, quello che ottengo è sostanzialmente che il metodo non è applicabile al parametro pair di master student. Voi direte sì, ma in realtà è un qualcosa che implementa comparable. Sì, ma attenzione, se io vado a prendere la dichiarazione del metodo sort pair e vado a rimpiazzare t con master student, che è il tipo della coppia, ottengo che al posto di t metto master student e vado a dire che master student estende comparable di t, ovvero master student, che non è il caso, perché il nostro master student non implementa comparable di master student, ma bensì implementa comparable di student. E quindi c'è questa differenza. La soluzione qual è? È quella di andare a dire che, in realtà, per il metodo sort pair con coppie di t, t deve avere come vincolo di estendere comparable non di t, ma di unknown super t, ovvero il tipo t, ad esempio il nostro master student, deve implementare l'interfaccia comparable non necessariamente di master student, ma anche di una qualunque sconosciuta classe che sia una super classe di t. A questo punto il tutto funziona perché t, master student, implementa comparable di student che è una super classe di master student. Di conseguenza i metodi sort che sono definiti dentro Arrays possono sfruttare questo meccanismo in modo da andare a fare un controllo preciso, ma nello stesso tempo flessibile, che mi permette di andare a fare degli ordinamenti di elementi che siano effettivamente compatibili con questi vincoli, ovvero gli elementi devono implementare l'interfaccia comparable non necessariamente della classe specifica, ma anche di una qualunque delle sue super classi. Per cui il metodo sort di un Array di t potrebbe essere scritto come static t extends comparable di unknown super t. Stessa cosa per il comparatore. Quando io ho il metodo sort che accetta un comparatore, il comparatore deve essere un comparatore di non necessariamente t, ma unknown super t. Quindi questo è il modo in cui effettivamente il metodo sort dentro la classe Arrays è dichiarato e semplicemente permette al compilatore di fare una verifica che il tipo degli elementi dell'Array che io sto andando a ordinare effettivamente implementino comparatore direttamente per la propria classe o venga implementato il comparatore di una qualunque delle super classi. Per quanto invece riguarda il metodo sort di t, non è dichiarato in questo modo, è dichiarato semplicemente come un Array di object, ma questo è stato fatto sostanzialmente per motivi di compatibilità all'indietro. Perché? Perché ci sono alcuni frammenti di codice che utilizzavano un sort di object senza nessuna verifica particolare, quindi per mantenere la compatibilità all'indietro non è stata fatta questa dichiarazione che vediamo qua, che sarebbe quella ragionevolmente corretta. A questo punto non ci resta che andare a capire quali sono alcune altre caratteristiche dei nostri tipi generici. Innanzitutto dobbiamo capire come Java gestisce la trasformazione di tipi generici in classi normali. Perché è necessaria questa trasformazione? Sostanzialmente perché i tipi generici sono stati progettati in Java in modo da essere compatibili con tutto quanto già esisteva, quindi non è possibile generare un nuovo tipo di classe, ma bisogna ricadere nelle casistiche precedenti. In pratica il compilatore genera, a partire da tutte le possibili varianti che possono esistere di un tipo generico, un'unica classe e lo fa tramite un'operazione che si chiama Erasure, ovvero cancellazione. Per cui se io ho due oggetti di tipo pair di integer e pair di string, in realtà entrambi sono istanze di una classe che si chiama row type che è pair. Quindi il compilatore cosa fa? Prende tutti i tipi che compagnano una dichiarazione di un tipo generico, li cancella con un tipo più semplice, più di base. Il risultato di questa cancellazione è quello che si chiama un row type. Quindi un row type è una classe generica in cui tutti i parametri di tipo sono stati cancellati e sostituiti con delle classi di base, le loro cancellazioni potremmo chiamarle. Normalmente quando vogliamo fare riferimento a un row type, utilizziamo il nome della classe. La cancellazione di un parametro di tipo sostanzialmente corrisponde con quello che è il suo limite, il boundary. Normalmente in assenza di boundary si utilizza object. Più in generale, ad esempio, qui abbiamo nel caso di t, senza ulteriori specifiche, abbiamo object. Nel caso in cui abbiamo t con un upper bound, number, allora t viene sostituito con number, il suo upper bound. Se ci sono più upper bound, questi vengono sostanzialmente utilizzati, vengono cancellati e viene mantenuto soltanto il primo. Questo tipo di comportamento del compilatore ha una serie di conseguenze pratiche e di limitazioni che dobbiamo conoscere per poter utilizzare in maniera corretta i tipi generici. Quindi, visto che c'è un'unica classe e non ci sono tutte le varianti, quando siamo all'interno della classe generica o del metodo generico, non abbiamo nessuna conoscenza di quello che è il tipo del parametro, perché ce n'è uno solo e quindi non abbiamo tante varianti. Quindi, sostanzialmente, il tipo che è stato sostituito al posto del parametro è ignoto all'interno del nostro metodo o della nostra classe e quindi non possiamo utilizzare quel tipo. In pratica, tutte le volte che noi abbiamo un parametro utilizzato all'interno di un metodo o di una classe, automaticamente il compilatore mette un cast alla sua cancellazione, alla sua erasure. Per cui, noi, potendo utilizzare l'operatore instance of, avremmo dei risultati che non sono esattamente coerenti con quello che invece potremmo avere all'esterno della classe o del metodo generico. Per questo motivo è impossibile utilizzare instance of all'interno di un tipo generico, perché ci darebbe dei risultati che potrebbero non essere corretti o comunque potrebbero confonderci. L'unico cosa che possiamo fare è andare a utilizzare instance of con il raw type, piuttosto che con la versione, con l'unknown, che in pratica equivale al raw type. Visto che non abbiamo nessuna conoscenza di qual è il tipo effettivo sostituito al posto dei parametri di tipo, non possiamo neanche andare all'interno di un metodo generico o di una classe generica a istanziare degli oggetti che corrispondono al tipo T, dove T è il parametro. Perché? Perché non sappiamo cos'è T. Quindi, sostanzialmente, il compilatore ci dice che non è in grado di generare un array del tipo generico. Quindi, quando ho un tipo generico, non posso creare oggetti di quel tipo, neppure array di quel tipo. Visto che viene eseguita la cancellazione, quando andiamo a valutare, o meglio, quando il compilatore va a valutare la correttezza di overload e override, li considera al netto della cancellazione. Quindi, prima procede alla cancellazione, quindi l'erasure dei vari tipi, e dopodiché scopre che, ad esempio, due metodi che apparentemente erano diversi, in realtà sono uno duplicato dell'altro. Per cui, void m di string e void m di string. Quindi, questi due metodi sono sostanzialmente identici, quindi non sono dei semplici overload, ma sono esattamente lo stesso metodo, e quindi è sostanzialmente duplicato. Quando abbiamo il punto interrogativo, sostanzialmente lo eliminiamo, e quindi non facciamo neanche una vera e propria sostituzione, ma diciamo che quello è, in pratica, il row type, quindi ci dimentichiamo qualunque dettaglio sui tipi. Un'altra conseguenza è il fatto che, quando vado a utilizzare l'ereditarietà, fatta l'operazione di erasure, in realtà, tutte le volte che io ho eredità da una classe generica, in realtà non ce l'ho da quella classe generica, ma ce l'ho dal suo row type. Per cui, non posso, o meglio, corro il rischio di implementare o estendere più volte la stessa classe o la stessa interfaccia. Ad esempio, se io dico che la classe student implementa comparable student, non posso poi andare a dire che la classe master student, che è estendere student, implementa comparable di master student, perché, andando a fare la type erasure, student e master student vengono cancellati, al loro posto viene messo object, e quindi, in pratica, mi ritrovo ad aver implementato due volte la stessa interfaccia, cosa che, ovviamente, è vietata. Quindi, un altro aspetto legato alla type erasure è il fatto che il nostro compilatore è in grado di fare un'inferenza dei tipi. Questo, però, avviene all'esterno del nostro metodo o della nostra classe generica. Avviene tramite un meccanismo che si chiama i type inference, di cui avevamo accennato già parlando delle funzioni lambda. La type inference, sostanzialmente, permette al compilatore di inferire quelli che sono i tipi argomento corretti, andando a fare, sostanzialmente, a ricavare quella che è una capture, ovvero un tipo, che lui ipotizza essere una sostituzione corretta per un parametro di tipo in un metodo di una classe generica. A volte, quando ho a che fare con i metodi, io posso utilizzare quella che si chiama un type witness, ovvero andare a utilizzare un punto il parametro di tipo che io voglio andare a sostituire e poi il metodo. In questo modo, sostanzialmente, vado a dire sostanzialmente che nel metodo sort generico sto utilizzando come parametro di tipo student. Quando faccio un'operazione di inferenza, normalmente vado ad utilizzare quello che è il target type, ovvero se vado a segnare un risultato di un metodo oppure il risultato di un'operazione di new a una variabile, vado a vedere qual è il tipo di quella variabile, quindi da lì deduco qual è il risultato. La stessa cosa se invece di assegnare una variabile cerco di passare il risultato come parametro di una chiamata o un metodo. Quindi quello è una possibile traccia per andare a capire qual è il metodo, qual è la sostituzione corretta per un parametro di tipo. Oltre a questo, io avrò i tipi dei parametri che passo a un metodo o a un costruttore generico, per cui quello mi permette di andare a sostanzialmente inferire quelli che sono i parametri di tipo. Come possiamo andare a utilizzare i tipi generici e come vengono utilizzati nella pratica? Se ricordate, quando abbiamo parlato di interfacce funzionale abbiamo detto che all'interno del package Java Util Function ci sono una serie di interfacce funzionali. Ecco, tutte quelle interfacce funzionali che io vi ho raccontato in maniera molto sommaria, in realtà in Java sono tutte interfacce di tipo generico. Per cui, ad esempio, se andiamo a parlare della interfaccia funzionale Function che ha un metodo che si chiama Apply, ecco, questo metodo ha un parametro di tipo T e restituisce un valore di tipo R, dove T ed R sono entrambi dei parametri dell'interfaccia generica Function. E la stessa cosa si applica per By Function, Binary Operator, Donario Operator, Predicate Consumer, Supplier. Tutti sono parametrizzati, quindi sono classi di tipo generico, scusate, interfacce di tipo generico. Ovviamente, quando parlo di tipi generici faccio sempre riferimento a degli oggetti. Per questo motivo, oltre a queste interfacce, ci sono tutte le varianti con la possibilità di gestire direttamente dei tipi primitivi, sostanzialmente int, long, double e boolean. Per cui ci sono 2int, long, double, boolean, function, type1, 2type2, function, type supplier, type predicate, type consumer. Queste sono delle varianti che ci permettono di andare a gestire in maniera più efficiente i metodi, perché in assenza di queste varianti che utilizzano i tipi primitivi, ci sarebbe la necessità di generare delle classi wrapper. e quindi l'operazione sarebbe un po' più costosa in termini di tempo e di occupazione di memoria. Negli esempi che avevamo visto relativamente ai nostri usi dei metodi reference, io vi avevo definito una serie di classi o di interfacce di supporto. In realtà, utilizzando tutte le varianti che ci sono con i tipi generici, praticamente riusciamo a utilizzare delle interfacce funzionali semplicemente facendo riferimento a questo insieme di interfacce funzionali predefinite. Per cui, ad esempio, quando avevo parlato del metodo reference actDigit2.2.charet, dove ho un oggetto e ho il metodo che viene chiamato su quell'oggetto, usando come parametro della interfaccia funzionale il valore che verrà poi passato a questo metodo, in pratica io avevo proposto un'interfaccia che si chiama int2chartfunction con un metodo apply. In realtà, quello che posso fare per poi poter andare a utilizzare questa funzione lambda, in pratica è andare a rimpiazzare questa interfaccia con int function, r apply int value, e poi andare a utilizzare un int function di character. Questo sostanzialmente prende un valore intero e mi restituisce un valore di tipo character, perché il valore, il tipo di ritorno, r, è il parametro della nostra interfaccia. In maniera analoga, quando faccio riferimento al string 2.2.lent, quindi è il metodo lente che è chiamato su un oggetto string, quindi io ho praticamente una interfaccia che prende una stringa e restituisce la sua lunghezza, invece di utilizzare questa interfaccia posso sostanzialmente sostituirla con un toint function che ha un metodo che si chiama apply as int, che riceve un oggetto di tipo t e restituisce un intero. Ecco, usando un toint function di string sostanzialmente ricevo un oggetto string e restituisco un intero. In maniera analoga, anche qui, posso utilizzare un int function che prende un valore e mi costruisce l'oggetto integer, quindi è un int function che ha come parametro integer, quindi il parametro integer sostanzialmente è il tipo di ritorno della mia funzione apply. Anche, l'abbiamo visto, i comparatori sono, ad esempio, delle interfacce generiche, per cui, quando io ho un comparatore, in realtà ho un comparatore di tipo t, per cui, i miei due parametri sono di tipo t, non sono degli oggetti, quindi ho la possibilità di utilizzare direttamente il tipo corretto senza dover fare un'operazione di cast. Questo ovviamente vuol dire che se immaginiamo di voler andare a ordinare un array di studenti, posso semplicemente andare a dire a.id-b.id, quindi facendo riferimento direttamente agli attributi, immaginando che siano visibili, degli oggetti studenti. che cosa comporta questo tipo di scrittura? Beh, comporta sostanzialmente la creazione di una classe interna anonima analoga a quella che vediamo qua sotto con i due oggetti studente e l'accesso ai due attributi dei due oggetti. In pratica, quando io utilizzo questo meccanismo, ho una serie di interazioni che sono riepilogate in questo diagramma di sequenza. I diagrammi di sequenza, vi ricordo, sono dei diagrammi in cui io ho una serie di oggetti, quelli coinvolti in uno scambio di messaggi, e ho i momenti in cui i metodi di questi oggetti sono attivi, ho lo scambio di messaggi tra un oggetto e l'altro ed ho il tempo che cresce sostanzialmente dall'alto verso il basso. Per cui, se io voglio utilizzare un comparatore di questo tipo, cosa faccio? Innanzitutto creo il comparatore, che può essere una lambda function, un method reference, quello che volete, e utilizzo questo chiamando il metodo sort, passando l'array e passando il comparatore. A questo punto, all'interno di arrays, il metodo sort che cosa fa? Andrà a ripetere un certo numero di volte l'accesso all'array con l'operatore quadre e poi chiamerà il metodo compare del nostro comparatore, il quale andrà a prendere i due oggetti che vengono passati e andrà semplicemente a confrontare i loro identificatori. Quindi vedete che oltre al client sono coinvolti l'array, l'oggetto, la classe arrays e il comparatore in questo scambio di informazioni. Inoltre, ve l'avevo accennato in una lezione precedente, in generale io posso pensare di andare a costruire dei comparatori passando alcune informazioni. per cui, ad esempio, all'interno della classe comparator esiste un metodo che si chiama comparing che accetta come parametro un oggetto dell'interfaccia funzionale function che si chiama keyget, che sostanzialmente prende degli oggetti e estrae una loro chiave e poi permette di fare un confronto utilizzando questo tipo di chiave. quindi sostanzialmente quando io vado a utilizzare il metodo comparing vado a dire come fare a estrarre un valore da degli oggetti che voglio confrontare e poi sostanzialmente fare il confronto sulla base di questi valori estratti. Quindi, in pratica, io posso andare a fare un array.sort la nostra array, ad esempio, di studenti e poi comparing e qui vado a specificare come utilizzare e come estrarre i valori sulla cui base fare l'ordinamento. Quindi student due punti due punti get id è il metodo è l'invocazione del metodo get id sugli studenti che vengono utilizzati. Quindi, ovviamente, questo metodo verrà chiamato due volte per i due oggetti da confrontare, il risultato sarà un id e poi verrà fatto il confronto. Quindi, in pratica, che cosa succede? succede che andrò a fare un'operazione di return a, b dove a e b sono i due studenti keygetter.apply a quindi vado a chiamare il metodo get id sull'oggetto a keygetter.apply b quindi lo chiamo sull'oggetto b da confrontare e poi prendo il risultato della prima applicazione chiamo il metodo compare to e gli passo il risultato della seconda. Questo è un'operazione abbastanza complicata perché, ovviamente, andando a utilizzare un'interfaccia funzionale il risultato di apply non è un int ma sarà un integer e poi su questo vado a chiamare il metodo compare to quindi prendo lo studente a su quello studente chiamo il metodo reference student get id che sostanzialmente invoca il metodo get id su a il risultato lo convento in un integer chiamo il metodo compare to a cui passo il risultato dell'applicazione sul secondo oggetto da confrontare. In pratica in termini di diagramma di sequenza quello che ottengo è questo. Cosa succede? Allora, innanzitutto il client quello che vuole fare l'ordinamento andrà a creare un key getter quindi l'oggetto per estrarre la proprietà in base a cui io fare l'ordinamento andrà a andrò a creare un oggetto compare to utilizzando il metodo comparing della classe comparator che sostanzialmente crea un oggetto di tipo comparator quindi questi due oggetti il key getter e il comparator verranno poi utilizzati per andare a fare l'operazione di ordinamento quindi una volta che ho questi due oggetti il key getter e il comparator posso andare effettivamente a effettuare il confronto il confronto che avviene andando a chiamare il metodo sort passando l'array e il comparator il quale ovviamente ha un riferimento al key getter quindi all'interno della nostra classe arrays del metodo sort in particolare che cosa succede? che per un certo numero di volte il metodo sort andrà a chiamare l'operatore quadre sull'oggetto array per andare a prendere le coppie di oggetti da confrontare e poi passerà questi due risultati al metodo compare del nostro comparatore il quale che cosa fa? chiamerà il metodo apply sul key getter passandogli il primo oggetto studente questo cosa farà? chiamerà il metodo getID sullo studente e poi andrà a creare un nuovo oggetto integer poi farà la stessa cosa sul secondo oggetto da confrontare quindi chiamerà l'apply il key getter chiamerà getInt e creerà un nuovo oggetto di tipo integer e restituirà quello dopodiché il comparatore chiamerà il metodo compareTo su uno dei due oggetti il primo che verrà creato passandogli l'altro come parametro a questo punto sulla base dell'esito di questo confronto che verrà restituito al metodo sort si deciderà se scambiare gli oggetti e dopodiché si passerà a confrontare un'altra coppia di elementi è ovvio che questa operazione è abbastanza complicata e soprattutto la creazione degli oggetti di tipo integer è pesante all'interno della classe compareTo è stato definito il metodo compareInt che permette di andare a fare dei confronti direttamente tra dei valori interi senza dover andare a passare attraverso gli oggetti wrapper di tipo integer infatti al suo interno è prevista una funzione toInt function che invece di avere un risultato di tipo integer avrà un risultato di tipo int per cui la situazione è quella che vediamo qui viene come al solito creato un keygetter un compareTor compareTor che fa riferimento al keygetter dopodiché quando viene chiamato il metodo sort come al solito si accede alla coppia di elementi da confrontare si chiama il metodo compare del compareTor solo che a questo punto il metodo compare semplicemente chiama il metodo apply esint due volte sul keygetter passando i due oggetti da confrontare il risultato sono due interi viene fatta semplicemente la differenza e viene restituito il risultato sulla base del quale si potrà decidere se scambiare gli elementi oppure no ovviamente queste diverse alternative hanno tempi e soprattutto carichi di memoria molto diversi tanto per darvi un'idea se diciamo che 100 è il tempo necessario per fare un ordinamento sulla base di questa variante dove sostanzialmente faccio la differenza tra i due attributi quindi non passo neanche attraverso un metodo getter ma vado direttamente ad accedere gli attributi dei due studenti ecco la variante che utilizza i metodi getter ha una penalizzazione in termini di tempo di torno al 20% quindi il 20% di tempo in più è richiesto perché semplicemente utilizzo dei metodi getter per accedere agli attributi invece di accedere direttamente agli attributi stessi ok c'è un po' di penalità ma non è eccessiva se invece vado ad utilizzare il comparing int ecco vedete che in questo caso oltre alla chiamata del metodo getter prima ho la chiamata del metodo apply as int il quale a sua volta chiamerà il metodo get id quindi ho un passaggio in più ecco in questo caso 35% in più se vado ad utilizzare la variante in cui non ho il comparing int ma ho il comparing per cui ho la chiamata al metodo apply il quale a sua volta chiama il metodo get id e il risultato viene confezionato avvolto all'interno di un oggetto integer che deve essere creato ecco in questo caso 85% di tempo in più senza contare il fatto che in quest'ultima variante utilizzo un sacco di memoria per andare a memorizzare gli oggetti di tipo integer e quindi è ovvio che sebbene lo possa scrivere in maniera molto semplice ecco è trasparente sostanzialmente non lo vedono me ne rendo conto immediatamente di quale penalità in termini di tempi di esecuzione ho nascosto dietro questo tipo di scrittura vediamo quindi come è evoluta la modalità di scrittura dei comparatori nel tempo seguendo le diverse versioni di java che quindi hanno introdotto alcune semplificazioni di sintassi o nuovi costrutti se noi pensiamo alla versione iniziale quindi java 2 non c'erano i tipi generici quindi il comparatore era basato sulla classe object quindi il metodo compare accettava due object e quindi era necessario fare il cast e accedere eventualmente agli attributi con java 5 finalmente c'è la possibilità di avere i tipi generici e quindi posso utilizzare un comparatore di student e quindi utilizzare direttamente student senza più necessità di utilizzare dei cast quindi decisamente più leggibile di quello precedente ma ancora ho la necessità di mettere tutto a questa quantità di codice di contorno per andare a specificare sostanzialmente questa semplice riga in cui vado a prendere i due id e faccio la differenza con java 8 con l'intuzione delle lambda e delle method reference posso andare a specificare i miei costruttori in maniera decisamente più compatta quindi vado a riportare semplicemente il codice fondamentale cioè quello che prende i valori e fa la differenza oppure vado a specificare il metodo che deve essere chiamato per restare i valori per andare a fare la differenza ricordiamoci che soprattutto quando utilizziamo i comparing quindi non i tipi primitivi il rischio è quello di andare a introdurre un peggioramento significativo in termini di prestazione utilizzando i tipi generici e la compattezza delle lambda è possibile andare a costruire dei vari comparatori quindi abbiamo visto il metodo comparing ma ce ne sono tanti altri ad esempio possiamo immaginarci un metodo reverse che riceve come parametro un comparethor e ne restituisce un altro che semplicemente fa l'inverso in effetti esiste all'interno della classe comparethor un metodo di default quindi può essere chiamato su un comparatore che si chiama reversed che permette proprio di fare questo quindi io posso se voglio ordinare degli studenti in base alla loro matricola ma in senso inverso posso fare un comparing student getid punto reversed un altro modo di comporre e di costruire dei comparatori utilizzando ad esempio il metodo del comparing anche questo è un metodo di default quindi può essere chiamato su un costruttore per andare ad aggiungere un ulteriore meccanismo di comparazione questo cosa vuol dire che a parità di ordine del comparatore che stiamo considerando entra in funzione il secondo comparatore per cui sostanzialmente cosa succede che fa un confronto in base al comparatore corrente se c'è una differenza allora semplicemente il risultato è quello altrimenti se ci sono dei pari merito va a utilizzare l'altro comparatore il dancomparing c'è anche con la versione in funzionale con il key extractor quindi l'oggetto comportamentale che estrae la chiave che semplicemente va a utilizzare l'apply del key extractor sul primo elemento sul secondo e fa un'operazione di compare to per cui se vogliamo andare a vedere come possiamo scrivere il confronto in base a ad esempio cognome e nome senza questi metodi di costruzione dovrei andare a scrivere un comparatore che confronta prima i cognomi se sono diversi semplicemente è finito il confronto se invece sono uguali allora va a confrontare i nomi in alternativa posso utilizzare un comparing get last and then comparing get first se andiamo a confrontare queste due scritture vediamo subito come c'è un significativo differenza in termini di leggibilità ovviamente questo comporta anche una piccola penalità in termini di tempi di esecuzione in questo caso però stiamo parlando di una penalità molto più ridotta rispetto al caso precedente perché non abbiamo creazione di oggetti wrapper in ogni caso comunque dobbiamo chiamare i metodi compare to quindi la penalità in questo caso della soluzione questa un po' più leggibile è intorno a un 15% tanto per darci un'idea questi meccanismi di composizione che abbiamo visto applicati anche su i comparatori possono trovare spazio anche su tutta una serie di altre interfacce funzionali ad esempio se andiamo a considerare la classe predicate che sostanzialmente prende un valore e restituisce un valore booleano possiamo andare a congiungere due predicati con end or oppure con negate quindi diamo il valore negato di un predicato su una funzione ho i due metodi di default and then e compose che sostanzialmente eseguono una seconda funzione in catena o prima o dopo quella che stiamo andando a considerare quindi riepilogando per quanto riguarda la nostra panoramica sui tipi generici i tipi generici ci permettono di andare a definire dei parametri di tipo che quindi ti generano quelle che sono delle famiglie di classi o di metodi ovviamente queste famiglie non sono realizzate in pratica perché tramite il meccanismo di type ratio in realtà tutto viene ricondotto a un unico row type il grosso vantaggio è che io posso utilizzare tante varianti e avere soprattutto il controllo da parte del compilatore che garantisce l'omogeneità dei tipi e la correttezza dei cast e i cast soprattutto vengono fatti in maniera automatica dal compilatore invece di doverli scrivere direttamente ricordiamoci quando gestiamo i tipi generici che i contenitori generici sono invarianti ovvero se i parametri sono legati ad ereditarietà le classi che utilizzano questi parametri non hanno nessun legame particolare per cui se voglio utilizzare la possibilità di passare un oggetto di tipo generico con un parametro qualunque devo andare a utilizzare delle wildcard wildcard che comunque pongono alcuni vincoli su quello che riesco a fare con il tipo perché sostanzialmente l'informazione relativa alla sostituzione del parametro di tipo viene completamente persa e cancellata dalla wildcard però ho una grossa flessibilità come in generale ho una grossa flessibilità nell'andare a scrivere il codice utilizzando i tipi generici in generale grazie a tutti